15 milioni di euro per interventi di riconversione e riqualificazione produttiva del territorio di Caevano. Li ha stanziati il Ministero delle Imprese del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, che ha stipulato un accordo di programma con la Regione Campania e il Comune di Caevano. La legge di bilancio 2024 ha disposto per l'amministrazione comunale, commissariata e caratterizzata in alcuni quartieri da situazioni di forte disagio socio-economico, l'applicazione del regime di aiuto destinato alle aree di crisi industriale, la legge 181 dell'89. L'accordo, che ha la durata di 36 mesi, prevede l'istituzione di un comitato tecnico composto da quattro membri, due in rappresentanza del MIMIT, uno in rappresentanza della Regione e uno in quello del Comune, che si occuperà di vigilare, coordinare e monitorare lo stato di attuazione degli interventi con il supporto tecnico di Invitalia, soggetto gestore della misura. Con successivi provvedimenti ministeriali verrà pubblicato l'avviso pubblico contenente i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande. Ai fini dell'ammissibilità, alle agevolazioni, i progetti di investimento dovranno prevedere un programma occupazionale finalizzato a un incremento o al mantenimento del numero degli addetti dell'unità produttiva. E intanto ieri il parroco del Parco Verde, Don Maurizio Patricello, è stato ospite di Porta a Porta, intervistato da Bruno Vespa, svelato in retroscena dell'incontro con la Premier Giorgia Meloni. Aperto la porta e le dico grazie, ha detto il sacerdote, mi sono meravigliato moltissimo quando è venuta in parrocchia. Io le dissi che noi avevamo un grande desiderio di applaudirla. Per cortesia si prende i nostri applausi, ma si può prendere anche i nostri fischi. E noi abbiamo fischiato troppo. I nove mesi, ha proseguito ancora Don Patricello, è cambiato tanto ricordando le opere avviate all'ex centro sportivo, che negli anni passati era diventata una discarica. E penso che per la fine del mese i primi bambini potranno nuotare nella piscina. A me il colore politico interessa relativamente. Ho chiesto aiuto a Renzi quando c'era Renzi, a Conte quando c'era Conte. Ho bussato una porta che si è aperta e ho il dovere di dire grazie. Ha concluso Patricello.